Oltre 60 appuntamenti che coinvolgeranno l'intero territorio comunale, 46 strutture pubbliche gestite da Comuneo Terzi e 21 private, 23 aree comunali tra parchi, piste, falesi e povie, 17 strutture private tra cui campo di golf, centri ippici e palestre, sono i numeri dell'Aquila Città Europea dello Sport 2022 di cui è stato presentato il calendario. Dai prossimi giorni e per l'intero anno la città, le periferie, le frazioni e le montagne saranno interessate da più di 60 venti, organizzati da più di 100 associazioni e società sportive direttantistiche, dal pattinaggio al calcio, dal trekking all'escursionismo, dallo sci al basket fino alla corsa, passando per equitazione Street Boulder, un calendario ricco e interessante. Gli investimenti nel settore e nelle strutture, ha ricordato il sindaco, sono stati già consistenti, 6,5 milioni di euro in questi anni per interventi già conclusi in fase di conclusione e progettazione, oltre a 10 milioni di euro del fondo complementare del PNRR che permetteranno di fare tanti interventi e già sono in corso dei sopralluoghi. Gli interventi che si sommano a quelli già previsti, faccio un esempio, il piazzale di Centicolella, il secondo lotto del palazzetto dello Sport, il campo di calcio di Paganica ed altre, oltre quello abbiamo messo risorse importanti del fondo complementare per ampliare l'offerta di questi impianti e per migliorarne la dotazione infrastrutturale, in alcuni casi per consentire addirittura di proseguire l'attività perché ci sono tanti problemi, dal nuoto al calcio, dal rugby al pattinaggio, il tennis, qualsiasi disciplina sportiva è stata affrontata in questo programma perché lo sport è un elemento essenziale per una città, in una città tra l'altro tradizionalmente fertile di campioni, di promesse. Alla presentazione, oltre al sindaco, il presidente nazionale Access Italia Vincenzo Luppatelli, che ha consegnato la bandiera ufficiale al sindaco, l'assessore comunale allo sport Vito Colonna, quello regionale Guido Liris, il coordinatore organizzativo Access Luca Parmigiani, la referente locale Noemi Tazzi e il presidente del comitato organizzatore locale Francesco Bizzarri. Alla città ha ribadito, si lascerà qualcosa di tangibile per il futuro. Noi abbiamo fatto una convenzione con l'Università dell'Aquila proprio per valutare quello che è lo stato dell'arte oggi e quello che sarà a fine di quest'anno. Lascerà anche che tra queste 60 società che hanno risposto ci sono dei giovani, quindi dei giovani imprenditori dello sport che naturalmente per la prima volta anche si proiettano come imprenditori nell'ambito sportivo e questo naturalmente rimarrà un grosso bagaglio per questa città. Gli appuntamenti ufficiali inizieranno il 10 febbraio a Campo Imperatore, ma l'Aquila ospiterà nel corso dei mesi iniziative di street fitness, ritiro delle nazionali non vedenti, tappe di campionati regionali, campionato di serie A di goalball, trofei vari, isciattori sulle piste e tanto altro di tutte le discipline.